Siamo con Anna Turell, post partita contro Costa, il punteggio per certi versi è bugiardo, perché l'avete messo un po' in difficoltà nel primo tempo, poi avete ceduto un po' di schianto, però questa partita potrebbe essere una lezione per poi in gara 2, per migliorare in gara 2. Esatto, sicuramente possiamo fare meglio, abbiamo preparato la partita e non abbiamo fatto niente di quello che abbiamo preparato, comunque sappiamo che arriviamo qui a giocare contro una squadra tosta e bisogna dare qualcosa di più. Oggi non l'abbiamo dato, speriamo in casa esca qualcosa di meglio. L'unica cosa è che nel primo tempo vi sono usciti tutti i tiri da tre, tu in particolare ti sei messa a segnare alla fine. So, purtroppo ogni tanto capita, ho cercato magari di difendere, di fare qualcos'altro, però bisogna starci con la testa e se escono i primi 2-3 il quarto può entrare.